Alessandro Polidori, una seconda vita per te dopo che avevi lasciato il ruolo di palleggiatore, ti sei trasformato in schiacciatore e sono arrivate delle soddisfazioni belle e grosse. Sì, finalmente sì, sono anni che inseguivamo questo traguardo, la squadra è cambiata tanto ma lo strike team dal 2007 quando è nato non ha mai smesso di crederci, siamo rimasti in pochi dei veterani, dei senatori, alcuni sono ormai nella dirigenza ma sono sempre vicino a noi, è stata una vittoria ma un percorso, un po' lungo però un percorso e oggi siamo tutti contenti di aver dato una soddisfazione a questa società, io in particolare perché qualche anno fa nel 2010 al termine di un quarto di finale al Pellini feci una promessa a me stesso e oggi finalmente sono riuscito a mantenerla, quindi doppia soddisfazione per me. Grandi cori per il capitano dopo una gara 2 che vi aveva visto uscire sconfitti per la prima volta in questa stagione, come avete fatto a rimboccarvi le maniche? Allora ammetto che sono stati due giorni in questo gavettone, siamo riusciti però a mantenere la lucidità nonostante mille difficoltà, nonostante dopo una squalifica, nonostante dopo tanti infortuni, però grazie anche al pubblico oggi siamo riusciti a tenere la testa ben salda sulle spalle.